ciao a tutti gli amici di treneranni.it oggi si parla di vj e best grip on the planet che è una dichiarazione sostanzialmente vera perché tutte le scarpe vj sport che ho provato negli ultimi anni compreso questa vj ultra sono effettivamente delle scarpe che grippano dappertutto non qui non si tratta di best grip on the planet qui è il pianeta che si aggrappa alla scarpa in qualsiasi condizione ve lo garantisco cioè piove voi vi sembrerà che il terreno è asciutto ma veramente è una cosa incredibile questa suola vi dà una sicurezza totale c'è poco da dire best grip on the planet è una scarpa che è pensata per affrontare ultradistanze in una certa maniera ha un'intersuola spessa sotto il tallone 30 mm un drop tacco punta di 6 mm una gomma eva che come vedete è una struttura molto flessibile molto reattiva non è morbida nel senso di ammortizzazione comoda di quando tu dici ammortizzo e vado no questa scarpa appoggia a terra è un appoggio che lo senti bello sicuro ed ha una grandissima grandissima capacità di far rullare il piede questa struttura non essendo fiacca ma è bella elastica come vedete la parte anteriore ha una bella curvatura che veramente voi correte e non dico di correre veloci dico di correre sbelti con scioltezza e vi sentite proprio il passo che va va tranquillo poi vabbè se siete su superfici bagnati e sentite quel senso proprio di gomma che si avventosa cioè è incredibile quindi una scarpa che ha nel suo dna l'ultra distanza perché è protettiva non perché è comoda ammortizzante rispetto alla precedente versione la ultra 2 ha anche un rock plate nell'anteriore che oltre a fare da filtro quindi a permettere al piede di riposare un po' di più di essere meno succube delle asperità del terreno quindi faticare ci dà quella capacità anche in più di elastica che ti dà una gran bella spinta anche in salita veramente una scarpa con cui se volete veramente spingere spingere di gamba spingere di piede questa vi dà tanta tanta soddisfazione e tutte queste caratteristiche di scioltezza velocità reattività sono poi assecondate da un'automaia che è veramente eccezionale dal punto di vista di come è stabile sul piede anche qui non è quella fasciatura comoda no è una fasciatura che sa quasi di spartano di rude da un certo punto di vista ma che ti dà tanta sicurezza cioè affidabilità totale compatta ben protettiva con un tessuto ben traspirante e bello resistente ed è dotata di questo sistema fitlock che è un inserto in ecopelle che è un tessuto comunque più consistente bello che insieme al sistema di allacciatura aumenta ancor di più la capacità della scarpa di tenere sulla zona mediale e poi il tallone contrapporte tallonare non ci sono tante imbottiture e imbottite il giusto è flessibile ha una conchiglia interna ed ha questi ulteriori rivestimenti interni la parte bassa che saldano ottimamente il piede quindi questa scarpa in qualsiasi posizione di appoggio non perderete mai il contatto scarpa sta bella piantata lì sempre quindi tanta sicurezza come puoi dare ad esempio una scarpa come la sportiva Bushido Jackal quel tipo di calzata lì da notare anche questa linguetta paralaci che è molto fine ma riempita in maniera solida taglio molto ergonomico anche qui c'è una somiglianza con quelle di Bushido Jackal come struttura che è pensata in maniera da performance è una scarpa che pesa sui 290 grammi solida e ai piedi sembrano meno proprio perché vi dà tanta brillantezza e soprattutto sicurezza l'unica cosa che si può dire può essere il fatto che allora la struttura è sì flessibile ma la gomma in sé non copia cioè a volte tu metti il pollice e lì la gomma sotto il pollice ti va in compressione questo qui non succede quindi magari a volte più il sassolino piccolo voi appoggiate il piede c'è un sassolino grande e uno piccolo quella differenza lì non la copia bene perché magari è una gomma più morbida e allora in quel caso ci può essere non dico tanta stabilità ma la scarpa ecco vi fa correggere di più con la caviglia con la gamba rispetto a una scarpa morbida ma ripeto questa è una scarpa da performance da corsa da spinta quindi penso che chi veramente usa questo tipo di scarpe queste cose ci fa poco conto va come un cane armato sulle asperità un'altra cosa da tenere conto è la taglia ora che normalmente sono us 10 cm 28 qui abbiamo us 10 euro 43 cm 27.6 sta precisissima cioè veramente 27 se la prendete prendete centimetri la taglia in 28 anche se mi da una taglia più grande us fate attenzione alla corrispondenza in centimetri per la scarpa del genere prenderei anche un pochino di più di 28 sinceramente visto che è per l'ultra distanza però devo dire se è precisa si sta comunque bene belli sicuri insomma best grip on the planet yeah gran scarpa performante ve la consiglio soprattutto questo in periodo invernale in qualsiasi situazione brevi medie se ci volete correre al massimo quando siete così ben preparati lunghe ultra distanze se siete top atleti veramente best grip on the planet quindi